Prometeo Prometeo si svolge in un tempo che non è un tempo, si svolge in un luogo che non è un luogo, la scizia. In un tempo che non è un tempo e in un luogo che non è un luogo, evidentemente non ci sono personaggi, non ci sono esseri umani, ci sono entità. Aria divina del cielo, rapidi venti, sorgenti e vene dei fiumi, mare, mare, madre terra universale, corona del sole che tutto vede. Io vi chiamo a testimoni, guardate quali pene devo subire, io un Dio per mano di altri dèi e dovrò consumarmi così fino a quando? Per sempre, ma io lo sapevo, certo che lo sapevo, perché io vedo e vedo che il fuoco che ho donato agli umani sarà maestro di conoscenza, di ogni arte, di tutte le tecniche. Io sapevo di compiere un atto irreparabile, ma l'ho fatto perché il fuoco è salvezza. Ma cos'è questo suono? E questo odore? Sembrano ali, ma fanno paura. Sembrano ali, ma fanno paura. Grazie. Allora... Grazie. Grazie a tutti